Santità, dopo la celebrazione eucaristica in questo parco, trasformato in questa occasione in una cattedrale a cielo aperto, e prima di incontrare allo stadio di San Siro i ragazzi della Cresima e le ragazze della Cresima di quest'anno, voglio dirle il grazie di tutto il popolo di Dio, delle terre ambrosiane e lombarde, per questa giornata che ha voluto passare con noi. La presenza così numerosa, l'applauso di tutti questi fedeli, ma anche il sorprendente accompagnamento di una folla multiforme lungo tutti i trasferimenti, dicono meglio di ogni parola la nostra gratitudine. È una giornata non ancora conclusa, ma già molto densa di grazia. Oggi tutti noi abbiamo potuto sperimentare ancora una volta la verità di una celebre affermazione del nostro padre Ambrogio, citata però solamente solo a metà. Dove è Pietro, dice il grande padre, là dunque è la Chiesa. Dove è la Chiesa, là non c'è la morte, ma la vita eterna. I gesti che lei ha compiuto ci offrono una significativa prospettiva per l'evangelizzazione di questa nostra metropoli lombarda. In particolare, l'abbraccio ai più poveri, agli immigrati, il paziente saluto ad uno ad uno a tutti i carcerati. In il pranzo con loro ci ricordano anche di pregare per le vittime del tragico attentato di Londra, per i loro cari e anche per due detenuti che proprio qui nel carcere di Monza l'altro ieri si sono tolti la vita. Ma i suoi gesti, i suoi esempi, la sua cultura di popolo, i suoi insegnamenti che costituiscono un tutt'uno nel suo Magistero, ci indicano la strada perché è Gesù Cristo nostra pace. Gesù, bellezza, verità, bontà, giustizia, Gesù di cui tutte le donne e tutti gli uomini delle nostre terre hanno bisogno, raggiunga tutti coloro che le abitino e tocchino il loro cuore. Il 138 dell'Evangelii Gaudium dice «Costoro hanno molto i poveri da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei con le proprie sofferenze, conoscono il Cristo sofferente. Il loro sguardo, nella sua dolorosa semplicità, illumina e dilata il nostro sguardo troppo spesso così parziale. Lo sguardo europeo ancora troppo soggiogato da eccessivi intellettualismi e da troppa fiducia in tecnocrazie ed analisi». Dal primo giorno del pontificato il suo stile di esercizio del Ministero di Pietro è espressione di questa testimonianza intera e da qui scaturisce la nostra gratitudine per il modo gioioso e stimolante del suo essere con tutti i suoi figli e con noi oggi in particolare in questa intensissima giornata. Vogliamo che questa gratitudine ci insegni come camminare. Oggi è la solennità dell'Annunciazione in cui ricordiamo che Dio si è fatto uno come noi. attraverso il fiat di Maria l'eternità entra nel tempo e la possibilità di compimento è donata ad ogni donna e ad ogni uomo. Come espressione di gratitudine per la sua visita, oltre ad un segno per la carità del Papa, consegniamo a partire da oggi le chiavi di casa per 50 famiglie che ne sono privi. Sono state acquisite dalla diocesi, restaurate e verranno ora date a queste famiglie. Come lei non si stanca mai di chiedere le assicuriamo santità la nostra preghiera quotidiana. Chiediamo alla Madonnina che, come diceva un po' esagerando il Manzoni, sotto questo cielo di Lombardia che è bello quando è bello, si vede da ogni punto della diocesi. Chiediamo a lei di stendere sempre un lembo del suo manto a protezione del successore di Pietro. Grazie. Applausi. 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 Grazie. Applausi.